Un palo dell'illuminazione pubblica pericolante nello spartitraffico di Corso Gelone all'altezza dell'incrocio con via Brenta. Una zona centralissima dove è impossibile non accorgersi della presenza di un palo che, come documentano le nostre immagini, è inclinato. La cosa preoccupa anche perché negli ultimi anni si sono verificati altri casi come quello di Viale Teocrito. Per fortuna il palo dell'illuminazione di Corso Gelone di fronte agli uffici dell'Asp non ha ceduto ma il rischio è sempre incombente come segnalato dagli operatori commerciali della zona che testimoniano come il palo sia in quelle condizioni ormai da troppo tempo.